Dottoressa Borgonovi, è appena terminata la presentazione OXE. Si parla di gap, gap tra nord e sud, gap tra l'italiano e la matematica, gap tra il ragazzo e la ragazza. È davvero così incolmabile qui in Italia questo gap? In realtà il gap, soprattutto partendo dall'ultima domanda tra la comprensione dei testi e la matematica, è diminuita in maniera sostanziale negli ultimi anni perché c'è stato un aumento delle competenze degli studenti nella matematica molto accentuato. Stesso discorso per quel che riguarda le competenze scientifiche. Il gap di genere rimane molto accentuato in Italia, soprattutto nella matematica. Le ragazze vanno molto meno bene dei loro compagni di classe. Tuttavia c'è la potenzialità per le ragazze di avere delle competenze molto superiori. Una possibilità è che la società italiana e la scuola italiana investa maggiormente nella fiducia che le ragazze hanno nella propria capacità di risolvere problemi matematici. Differenze regionali permangono. Alcune regioni italiane, soprattutto il nord-est, hanno delle competenze medie che sono paragonabili e migliori al mondo. Possono essere paragonati ai livelli della Svizzera, della Finlandia, dell'Estonia, per cui dei livelli di competenze estremamente elevati. Altri degli studenti che invece vanno a scuola in altre regioni hanno dei livelli di competenze molto inferiori. Alcune di queste differenze sono spiegabili con il differente livello socio-economico delle regioni italiane, ma solamente circa la metà della variabilità nei risultati a livello regionale è spiegabile con il contesto socio-economico. Quindi la scuola italiana può fare di più e la società italiana può fare di più per garantire che ci siano uguali opportunità di apprendimento in tutte le regioni del paese. Lei nella presentazione diceva anche che le ragazze hanno poca autostima, cioè non credono molto nelle loro capacità. Sicuramente un discorso culturale perché vediamo che le ragazze in alcuni paesi hanno dei livelli di competenze nella matematica estremamente elevati, molto superiore ai livelli medi di competenze dei ragazzi in altri paesi. E allo stesso tempo in alcuni paesi non ci sono differenze di genere. Le differenze di genere tendono a essere molto inferiori alla media per quel che riguarda la matematica nei paesi dove c'è una maggiore uguaglianza a livello della società tra uomini e donne. Quindi la differenza di genere non è determinata da fattori biologici o deterministici. è il risultato di tanti fattori, ma soprattutto fattori culturali, di socializzazione e delle aspettative che la società pone nei confronti dei ragazzi e delle ragazze e dei ruoli che si aspetta che ricoprano una volta che entreranno nel mondo della vita.